Buonasera amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, ben ritrovati dopo questa grande, grande vittoria. Vittoria per 3-2, una vittoria di rimonta, una vittoria che ci ha visto protagonisti nel secondo tempo, con tre gol. Prima la rete di Olly Giroud, bellissimo gol, gol di esperienza. Di quando ha segnato Giroud ha pensato quanto c'è mancata la scorsa stagione il Bomber, che magari vive una partita opaca ma poi nel momento del bisogno, nel momento in qualche modo importante c'è, segna, realizza la rete che in qualche modo dà la scossa vincente alla squadra, grande rete di Olly Giroud. E poi vedete scorrere nelle immagini che non fanno riferimento alla parte di oggi, ma la vittoria di oggi è frutto di un lavoro, di un percorso, il percorso rosso-nero, il percorso creato da Stefano Pioli, dal suo staff, da tutta la dirigenza unita. Perché la vera, possiamo dire, il vero punto di forza di questa squadra è che nei momenti di difficoltà ha tantissime essenze. Assente Brahim Diaz, assente per tanto tempo Ibrahim, Cijiru, oggi assente anche Messias davanti, il Milan ha perso anche Rebic. Ma il Milan è più forte delle difficoltà, il Milan è più forte delle sfortuna. Perché il Milan non è un gruppo sfortunato, è un gruppo unito, un gruppo determinato, un gruppo voglioso di raggiungere grandi obiettivi. Il percorso, quello che è stato tracciato, è stato importante. Se pensiamo al Milan di Pioli, pensiamo alle immagini del Milan di Rioave, tutta la squadra unita lì al freddo, in qualche modo che combatte, che combatte per raggiungere un obiettivo. E quelle immagini lì hanno fatto crescere tanto la squadra. Ha fatto crescere l'arrivo di Ibra, di Simon Chier, che hanno dato esperienza, personalità e qualche consiglio ai più giovani. E questa è una vittoria importante, quella di oggi. Una vittoria che ha un nome e un cognome per lo spirito. Samuel Castiglieco, giocatore che è ai margini del progetto rosso-nero. Molto probabilmente, l'abbiamo già detto, anche Montizio Calcio Mercato potrebbe lasciare il Milan nel mercato di gennaio per andare al Getafe. Ma oggi il Milan è stato incarnato nei valori da Samu Castiglieco. Corsa, sacrificio, dedizione e cultura del lavoro, voglia di vincere, voglia di sacrificarsi per gli altri. Infatti, mettete mi piace a questo video, questo video, ogni mi piace dedicato a Samu Castiglieco. Alla sua mentalità, alla sua voglia, alla sua passione e il suo attaccamento ai colori. Ecco, ho visto tutto questo da parte di tutti, dal primo all'ultimo. Da Tatarugianu, da Calabria, passando per Fodebayo Touré, altro giocatore che ho visto in crescita. Seppur nel primo tempo ha fatto fatica, nella seconda parte ha preso coraggio come ha preso coraggio tutta la squadra. È la vittoria di Chessy, è la vittoria di Benassè, è la vittoria di Sandro Tonani, è la vittoria di Ibrahimovic, di Giroud, di Leao, di Castiglieco per l'appunto, di Krunic. È la vittoria di tutti, è la vittoria del gruppo. Questa vittoria ha certificato una cosa, il Milan è una squadra pericolosa per gli avversari, per ogni avversaria, perché nonostante le difficoltà è fortissima nel gruppo. Ci sono poche squadre europee che hanno questa unità di intenti, questa voglia di sacrificarsi per gli altri. Quando parliamo di calcio parliamo di uno sport di squadra. Ecco, il Milan è una squadra che incarna tutto questo, lo spirito di squadra e ovviamente il collettivo che in qualche modo trionfa. E tutto questo è merito di Stefano Pioli, della dirigenza, che in qualche modo consapevole, conscia degli errori del passato, ha capito che l'unico modo per rimanere in alto, per rimanere competitivi nel lungo periodo è quello di essere una squadra davvero, davvero unita, davvero, davvero compatta. Una squadra importante, una squadra che in qualche modo ha voglia veramente di stupire e oggi c'è veramente riuscita. Una prova di forza, una forza devastante, una forza 9, una forza da Milan. Un Milan sempre più bello, sempre più in qualche modo amato da tutti noi i tifosi rossoneri. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere un mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.